Pietro Bambara, il contributo per l'affitto continua a riscuotere grande interesse e adesso per il Comune di Modena è arrivata anche una proroga per la scadenza della domanda, tante le richieste di informazioni, chiarimenti e poi anche di splettamento di pratiche qui al CAF, che cosa chiedono, che cosa è importante sapere, che cosa si può fare qui? Le domande più comuni sono come si presenta questa domanda, chiaramente noi vi aiutiamo ma è assolutamente necessario presentare un ISE, l'ISE deve avere un indice che va dagli 0 ai 35.000 euro massimi, ci deve essere inoltre una perdita per il trimestre marzo, aprile, maggio 2020 del 20% rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente. La domanda può essere fatta da tutti i residenti nella nostra regione, quindi in Emilia Romagna e siano assegnatari di un alloggio ERP. La domanda si poteva presentare il 18 febbraio 2021 e appunto è stata prorogata fino al 9 di aprile. Chiaramente la domanda si può presentare, si può compilare nei nostri uffici, noi diamo tutto il supporto necessario, però per determinati comuni è necessario lo speed che si può ovviamente fare recandosi negli uffici postali oppure direttamente su internet. Inoltre in questo periodo le domande per la dichiarazione dei redditi sono ovviamente in aumento, noi ovviamente stiamo già fissando gli appuntamenti per chi è nostro cliente da anni, ma anche per i nostri nuovi clienti. Vi ricordo che è possibile non soltanto chiamare al nostro numero telefonico, ma anche si può prenotare online, comodamente quindi da casa, accedendo al nostro sito cafitaliaemilioromagna.it. Lì troverete anche la lista dei documenti necessari quest'anno per poter presentare il Sede 30 oppure per richiedere tutti i nostri servizi di tutti i nostri uffici. Oltre al centro di via Pelusia a Modena, i centri cafitalia e epas si trovano in provincia a Pavullo nel Frignano, via Marchiani 61, a Formigine in via Picelli, a Maranello in via Claudia, a Sassuolo in via Circonvalazione Nord-Est, a Carpi in via Dosi e a Mirandola in via Agnini. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.